Ecco siamo qui di fronte alle residenze da Vinci, stanno iniziando i lavori per la quinta palazzina, qui vediamo i plinti di fondazione, questa è la quarta palazzina. Ecco siamo qui sul lungomare, questa è la sistemazione della nuova strada. Ecco le ultime due palazzine che sono in fase di ultimazione, mentre di fronte abbiamo invece le altre due che stanno per essere abitate. Ecco si, sosseguono i lavori di ultimazione. Ecco siamo arrivati sulle due palazzine invece che sono state ultimate e che sono già abitate. Ecco qui vediamo la piscina con le due palazzine. Qui di fronte abbiamo il centro elioterapico Cogesco, ecco con queste immagini delle palazzine ultimate terminiamo questo video.